E benvenuti sul mio canale, io sono Elin Ninja Adesso siamo su questo gioco da telefono che si chiama World War Ora aspettiamo il caricamento, non ce l'ho mai giocato Se volete ve lo potete scaricare 30 anni dopo Bene ragazzi, eccoci qua Dopo 100 anni, iniziamo il tutorial Macaroon, California Vabbè, Ustra Uh, bello Penso che questo sia tipo il tutorial Raga, non so se l'avete visto, ma sembra quello Sembra la scena di quando c'è Capitano America Il film di Capitano America Sì, io non so Vabbè, schifo perché tanto non so l'inglese Ok, che devo fare? Oh, un'arma Vabbè, ok Ma ciao Ma come ti chiami? Io mi chiamo tipo col fucile E boom, ricarichiamo Che figata la ricarica E' proprio uguale Alla Ma che ca... Comunque l'arma di prima era uguale alla... Come che... Alla fucile da fanzeria Ehm, eh, eh Ma te vi faccia Questa arma è bella Non so, non mi ricordo come si chiama Però era su Call of Duty Ma è uguale a Call of Duty Parc Mio, io, 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 io... Calma ti Sì, sì, sia abbastanza Tia Sì, una stessa I sbagliato calma zio cioè avete capito raga come se me la vedi questo vabbè ora che devo fare ah devo andare là ok e si scavalca a palermo ok 130 ma mi piace ma tanto ok che devo fare plan e ora che devo fare porco schifo ok rieccomi cos'è gobel ce li vedete ma perché qua sono instantaneo e si fortano mettono che brutta cosa ok posso fare qua il cecchino ok lo so come si usa il cecchino non sono mica spara bang perché non mi spari perché non spara asce a e vi fatevi sotto a tutti e e ma c'è qualcun altro vabbè call of duty vabbè allora ricarica di call of duty bellissimo dove sta l'altra gente c'è un altro tip boom vittoria vittoria reale no ok andiamo andiamo con non mi ricordo non so come si chiama star e ci ho tipo sudato e siamo qua ti devo sparare ok importante annuncio schifiamo tutto tanto ragazzi l'inglese guarda missione è completata ok continuo iniziamo la missione ok eccoci qua dai ragazzi questa qua la voglio come seria cioè poi decidete voi ma siccome è il mio primo video non so no ragazzi se ragazzi vabbè tanto domani farò un altro video domani quindi andiamo avanti figo questo sono io là c'è il medico che sta con tizia parla schifo tanto ce ne freghiamo ok oh la pisolina bella che devo fare fammi passare per carica abbassiamoci ragazzi come su fortnite ho la pistolina non ho paura di usarle oh porco schifo il nostro amico cerca di restare i nostri altri amici no ci crepo male porco schifo quanto è bello il rumore di quest'arma no porco no 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 boom no da dove mi sparano ok raga no amici via ho il cecchino tu vuole le botte raga ci vuole ah no ma come ho ancora tutta questa vita no raga vuole cos'è ma boom boom che ne chiamo ma perché il cecchino ah no eeeh boom 150 headshot perché ho sparato e dai eh porco schifo e basta ma ci crepo porco schifo e sono morti ok andiamo avanti dove devo andare oh via 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 è la maciona raga mi si sta lagando oh schifo bello headshot ok oh zio raga mi sono bombardando ma tu a te che ti ha invitato scusa è una mannaia là c'è un altro tipo che si mitraia ma non vi preoccupate pan mi ok a te ok preso che ho sparato di nuovo vabbè bello ricarichiamo ma c'è pure l'aereo no ok raggiungiamo corri amico ok ok resto mio amico ti ho arrestato cosa vuoi di più dalla vita ok recupera tutto recupera tutto ma questo è l'esis che mica è oh ok amico voglio un arresto ok no arrivare vado bello ma vieni da pochino si dove devo sparare là mamma mia altro colpettino ma come dove devo sparare ah là ok adesso ok no amico porco schifo via abbassati dov'è prendo queste ok corri come se non ci fosse un domani via via vai oh porco schifetto esplodi per favore oh schifo ma allora ah no l'ho fatto così l'ho fatto no c'è un mio amico spappolato che cosa brutta ah le mine no non sono mine quanto ignorante ahhh pistolina salvami tu no ed è perché ricarica ahhh ma allora ciao ricarichiamo abbassiamoci curiamo ok ah ma buongiorno la mannaia eeeh ecco è uguale dove devo andare adesso andiamo avanti oh su andiamo oh bellissimo ok ebbiamo conquistato si va a berlino pepe 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 e andiamo no minu ok ok apriamo si ho capito ok ok non so cosa sia comunque siamo al capitolo 1 è il lingotto d'oro ok andiamo cos'è upgrade ok livello 2 ok figo andiamo ok si go ok 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 start mission andiamo bello me gusta che dobbio fare ok ci sono e non ti colpisco mannaia ok di no scop bellissimo ora mi tocca ora voglio la smitragliatrice siamo qua e adesso no non è un buon segno tutta quella roba oh hai problemi vattenli a risolvere beh da quando i caralmati si fanno one hit solo per sapere to 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 e tieniti sta granata ok ricarichiamo quest'arma è carica vediamo no va bene raga andiamo avanti ok c'è un tipo la smitragliatrice grande la voglio no come come definita vabbè e dai accettiamo cosa è caso ragazzi ve la faccio saltare questa pubblicità mamma mia ok ragazzi vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa ok oh bella mi sono figa ok vabbè una nuova arma no pistola figo caschetto medikit granata o questo vabbè bella dai no non lo voglio va bene ragazzi per questo video puoi essere qui se vi è piaciuto il video vi vi come si non so più l'italiano iscrivetevi e lasciate un mi piace ciao ciao